Bisogna avere spirito di corpo e aiutare i colleghi in difficoltà. È quanto si dice in una nuova intercettazione depositata agli atti della Procura di Roma nell'ambito del processo per la morte di Stefano Cucchi. Un'intercettazione datata 6 novembre 2018 tra un marescialle e un suo collega che gli riporta un messaggio mandatogli del superiore. Parole che, a parere di chi indaga, potrebbero essere considerate un presunto nuovo tentativo di depistaggio o di pressione da parte dei vertici dell'arma. Sì, ma fammi capire, è venuto il colonnello, se ne chiudo? Se ne chiudo pure. Ok. Mi raccomando, dite al maresciallo che ha fatto servizio alla stazione lì dove è successo il fatto di cucchi, di stare calmo, tranquillo. Ma sta andando a buffarne il pallo, allora ho fatto i cucchi, ne abbazzo per prendere la televisione. E cosa ha detto? Mi raccomando, dovete avere lo spirito di corpo, se c'è qualche collega in difficoltà lo dobbiamo aiutare. Mi corregge Paolo tranquillo, dice no, dovete andare di corpo. Mi raccomando, qua e là ho fatto le cucchi di corpo e le cucchi di tutto. Va bu, niente. Sordi e strunzate, che bene, ma c'è. Non vale. E non lo faccia fa. Ciao. Va bu, ok, ciao ciao. Ciao ciao ciao.